Ad Avellino, da un po' di tempo, quasi tutti gli esercizi commerciali sono presidiati da migranti che chiedono l'elemosina. Un fenomeno così capillarmente diffuso da apparire organizzato. Tant'è che i commercianti si lamentano di temere ritorsioni se dovessero protestare per allontanare i migranti dall'uscio dei loro esercizi. Molti preferiscono non parlare, altri lo fanno lontano dalle telecamere, ma l'insofferenza è palpabile. Te li trovi dappertutto. Io ieri sera parlavo con degli amici e mi sembra che giocano ai quattro cantoni. Ce ne sono troppi, ce ne sono tantissimi e non bastassero loro, ci sono anche rumene, quelle zingare con i bambini, che sfruttano i bambini. Mi pare una cosa esagerata in realtà, sicuramente infastiditi da questo fatto. Poi alcuni sono insistenti. Io sono mortificato perché quando un ragazzo di quello allunga una mano per avere un soldino e avendo noi le difficoltà che abbiamo e io mi devo rifiutare, per me è una mortificazione, è una doppia mortificazione. Mia e sua. Posso dire che sono infastiditi i clienti e quindi sappiamo questo perché i clienti ce lo dicono, anche perché hanno notato che cambiano anche tanti soldi al giorno, quindi quando vengono qua e vedono che cambiano e dà fastidio. Perché vengono a chiedere l'accattonaggio quando la maggior parte di loro sono ospiti di strutture che dovrebbero impegnarli in attività culturali, in attività socializzanti, in attività. Però questa processione quotidiana di persone che gira, girovia, sta agli angoli delle strade, sicuramente fa pensare che forse dietro c'è anche chi ne approfitta. All'attenzione delle forze dell'ordine, della prefettura che ha competenza dovrebbe monitorare questa cosa, non possiamo assistere a questa bruttezza. Ho sempre l'impressione che gente ha bisogno di sopravvivere e non li voglio condannare, non li posso condannare nella maniera più assoluta. Mi immedesimo.